Cosa devi fare in Italia per commettere un reato legato alla droga per stare in galera? Questo era indiziato, così la ricostruzione che ho chiesto ai miei uffici stamattina nello scorso autunno, coinvolto nel sequestro di 225 chili di droga e sto stronzo era a spasso. Non è possibile, non esiste modica quantità, ti becco a spacciare, vai in carcere con le misure cautelari. Secondo me c'è qualcuno che dovrebbe farsi un serio esame di coscienza perché ci sono due bimbi di 8 e 10 anni che hanno perso la mamma e il papà perché c'era un infame che doveva essere in galera in Italia o al suo paese che guidava ubriaco, tossico, senza patente e senza assicurazione. Non è possibile, le pene che noi prevediamo passano da un minimo di 3 a un massimo di 6 anni per quanto riguarda lo spaccio e la multa da un minimo di 5 mila a un massimo di 20 mila euro. Confisca obbligatoria del mezzo, sequestro del veicolo e revoca definitiva della patente. Io spero che il Parlamento abbia coscienza del fatto che è urgente combattere spaccio e consumo sotto ogni forma.